In caldo a Catanzaro c'è innanzitutto la questione del portiere. Con l'addio quasi certo di Branduanni sul quale è forte l'interesse del Crotone e quello molto probabile di no che il Catanzaro al momento erosa il solo Romagnoli, mai utilizzato nella scorsa stagione. Una trattativa aperta è quella con il Lecce per Marco Bleve, per il quale sarebbe un ritorno sui tre colli dopo i sei mesi della stagione 2020-2021. Le Aquile calabrese cercano un attaccante sul taccuino del DS Magalini. Sono finiti i nomi di Simone Simeri del Bari e Luigi Cuppone del Potenza, ma anche quello di Michael Liguori, autore lo scorso anno di 11 reti con la maglia del Campo Basso. La Virtus Franca Villa ha raggiunto l'accordo per rinnovo del contratto fino al 2024 con il difensore ex-Avelino Mirko Miceri. Nella stagione scorsa 33 presenze, due gol e un assist. Il Cerignola monitora due under, Sabino Signorile alla destra classe 2002 di proprietà del Milan al Ceregno nell'ultima stagione e Samuere Righetti, terzino sinistro del Perugia. Ora si apre la trattativa con il Bari per rinnovare il presso dell'estremo di difesa d'Orval. In bilico il futuro del Messina oggi e in programma in comune un incontro del Presidente Sciotto e il Sindaco Basile. Idea under del Potenza, il club lucano starebbe osservando con interesse Giuseppe Lamonica, classe 2001 nell'ultima stagione, prima a Trapani e poi ad Aversa, sul calciatore anche Taranto, Monopoli e Virtus Franca Villa.